Ma non c'è un tipo dentro a casa, già mi fa paura La testa mi fa meno limitare, qui temi e venti a tempo non letali Ma mi chiamo Va bene, no, ok, no, no, ma si, messaggi e rispondo dopo Oh, ma non c'è il c***o Nooo, non è normale violenza mantenuti carattere sessuali in linguaggio esplicito Megoglioni Lynn Langerman è una giornalista investigativa che indaga sull'omicidio di una ragazza incinta morta in circostanze inspegabili nella provincia rugale dell'Arizona Dove è Stefani di Blake Langerman, suo marito assistente e caldato Documenta tutto, non siete combattenti, quindi il mio nuovo modo di fuggire è correre, nascondervi a home Morire Ma se quel bambino nasce, sei agli occhi dell'anticrisp... vabbè fammi finire Puttana Non c'è Cosa? In tua dorme. Jessica, credo. Tu conosci una Jessica? Oh, no. No, no. I mean, I was dreaming about Jessica Gray from when we were kids. Oh, yeah. I haven't thought about her in ages. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. All the mercury in that woman's blood? She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production value? Sure. Ma perché non ci facciamo i cazzi nostri e ce ne andiamo? You work by diaphragm with this thing on. Iyo's gonna be crap. We'll have to... What the fuck? Fuck. Sorry about that. I'm panning, I'm panning, I'm panning, I'm panning, I'm panning. Oh, that was exciting. Get as much of the landscape behind me as you can below the red light and yellow leather. But I'm just going to zoom. Hab-a-supi. Hab-a-supi. Ah. Where do I take it? What the fuck is this thing? I'm Lynn Langerman. Here for news tomorrow.net. We're flying past the Hab-a-supi Indian reservation in central Arizona in search of the origins of murder victims. Hey, Lynn. Uh, I don't think you should say murdered. We don't know that. Oh, I'll say she strangled herself to death. That's what the police report says. We might play this before the doctor interviews. If this falls in the first 30, we need to get the word murder in there. We should probably mention the fetus too, I mean, how I just... Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay. We're good. But I don't know if she's dead. Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant and alone, on a barren stretch of highway, 100 miles from near the end. Oh, my God. We're going to get the engine. Fuck. 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 Ma nonna, che situazione drammatica. Che disastro. La croce rovesciata infuocata non è che mi fa presagire bene. Ciao, Andy. Ah, così? Oh, Gesù Cristo. Ah, ah. Bella la grafica. Ho bisogno di te più che mai. Aiutami. Eh, scusa. Ma cazzo si corre. Scusi. Hmm, niente. Ma scende dalla croce, mi figlia schiaffi. No, stai lì, eh. Adesso arrivo in fondo, si aprono tutti gli armadietti, guarda, eh. Sei pronto? Sì, ma... Ma... Minchia, che lentezza. Ui. C'è, Andy. Non siamo soli qui. Non siamo bene, né? Ah, 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 ah. La telecamera, adesso deve riprendere per forza tutto. Ecco, quelli sono morti tutti. Ah, sì, sì. Eh, scusa. Ah, con R1 la telecamera. Ah, beh, 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 beh. Per abbassarmi, ok. Va bene. Sì, bellissimo, The Forest. The Forest l'ho finito con un mio amico. Molto bello. Ma ci abbiamo forzato proprio le... Le ore. Ah, così, ah, madonna che salto. Un giornalista, questo, eh. Salta come un gatto. Sì, ma abbiamo... Ma tu devi vedere, abbiamo fatto i castelli in The Forest. Sì, sì. Ci siamo messi dietro. Poi, non so se tu l'hai finito. Alla fine sblocchi, tipo... Uno scettro, un coso che tu pianti per terra e puoi decidere, puoi impostarlo se allontanare i nemici oppure farli venire vicini. Cioè, ciao, non abbiamo fatto ovviamente la regia di caserta. Allora. Un indicatore REC lampeggia. Mi chiamo che è puntata correttamente sulle vento a regia. Ah, ok. Su Nintendo c'è Green Hell che avevamo iniziato sempre io e questo mio amico qua ma è difficilissimo. È difficile, infatti... L'abbiamo mollato quando... Eh, sì, sì, la Fleming. L'abbiamo mollato quando sono venuto in ospedale e mi sono ammalato. Ma lì è veramente difficile. C***o. Sì, vabbè, stai caldo. Prendi una benda, figa! Una benda non ti può fare niente, figa! Vabbè. Ah, ok, c'è lo scatto. Sì, vabbè, sta venendo... Scusi, io arrivo da qua. Eh, quindi... Ah, là c'è qualcosa. Ah, di qua, eh? Beh, non si vede un cazzo. Scusi, faccio così? Ah! Eh, ma non si vede una minchia. C***o, 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 c***o! Ah, poi? Basta. Devo scendere? No. No, vabbè, ma non si vede una mica. Scusa un attimo. Volume, difficoltà, gamma. No, aspetta, perdone, mi aumento la difficoltà. Ah, sì, la difficoltà, la luminosità. Non vedo una minchia. Ciao, Dome. Allora. Non so, io vado dritto, non so. Penso che sia giusto indietro. Solo avanti. Prima che c'è qualche accidente che mi fa cadere addosso. Anzi, scusate un attimo. Però se riesco... Si vede? Ma no, no, no. Si vede fai un c***o. Mi puoi chiamare? In che senso? Cioè, perdonami, appena ho letto ho detto Boh, non so qual è il mio numero per chiamarmi. No, immagino che tu... Come? Eh, giù. Una c***o? Oh, grazie a Dio. Una c***o? Eh, sì. Hai appena visto un cadavere crocifisso pieno di vermi? Mio, non è che mi ci avvicinerò. Ah, ok. È quello che immaginavo io. No, Gio, Gio va benissimo. Cioè, dopo aver visto un cadavere in quelle condizioni Ciao, ne me ne sarei andato. Dove? Non lo so, ma di certo non vado... In un villaggio. C'è qualcuno? Dovete aprire. Dovete aprire. Dovete. Io ho sentito qualcuno. Vabbè. Chi è? Ma fanno un c***o, va. Madonna. Sì, anch'io. Credo. Ui. Chi è? State buoni. State buoni, eh. Salve buon uomo. Stavo cercando la strada per andare a casa. Mi puoi... Madonna che è maleducato. Non rispondi almeno. Almeno salutare. Cretino. Non è tanto accogliere. Chi è? Chi è che parla? Oi. Oi. Dove cazzo? Cosa faccio? Ma chi è che... Ah, è quello là che... Mamma mia, poverina sta mucca. Poteva essere un ottimo hamburger. Ma c'è qualcuno lì? Non riprende qua, no? Mamma mia. Beh, state calmi. Che cazzo di villaggio è? Ma che è Gesù Cristo obeso, insomma. Foto scattata. Premi per guardarla. Che guarda la foto di un foglio. Madonna. Ecco, se c'è una cosa che odio dei giochi è leggere. Che... Porca puttana. Allora, no, salmato dio. Continua la città. Mi sento, insomma, a prenderla da un po' là. Emente, evidentemente, questo muo soffotteva la terra. Pani, puntano. Con la lisciva, mì. Bagnato di piacere di Sesarovar. Emente, un muo dentro di me. E' interessante sto racconto. Aspetta, un attimo. Sono sensazionissimi. C'è un po' di terrorismo. Preghando che l'anticristo venga strangolato nel mio mentre. Cazzi, eretti. Vabbè. Eh, l'avevano detto. Era blasfemo e anche parecchio violento come gioco. Linguaggio scurrile. Vabbè. Ok, ci possiamo anche nascondere. Va bene. Ah, le batterie per la... Per la telecamera. Fra l'altro, la telecamera ha pure... Il... Visore notturno. Ma non so come si attiva. Oh, porco! Ma non potevamo giocare a Soul Park. Viena, perché me hai nominato Outlast 2? Porca puttana. Entra in sta cazzo di finestra. Nasconderti strisciando sotto i letti. Eh, va bene. C'è un tasto? No. Sa che dobbiamo correre, eh? Ok. Devo andare di qua. Sì, sì, no. Fa paura un po' troppa roba in sto gioco. Che è sta cosa? Ah, è un lanterno. Scusa un attimo. Ma se io spengo la luce, ma c'è tanto buio. Eh, non mi si vede più. A meno che... Provo a fare... Aspetta, vediamo se io accendo la torcia. Ma metto così. Bellissimo. Madonna. Perché sono ricoverato di leucemia. Bello così, eh? Bella... Atmosfera. No, no. Così. No, perché la luce mi faceva riflesso sulla... Sulla schermo e devo stare così. Io sento troppi... Troppi rumori indietro di lei. Va beh, grazie, eh. Rivederci. È stato brutto. Comunque Dometi si è appena perso un foglio di una che veniva... Eh, vabbè, paziente. Che veniva stuprata, tipo da uno e... Da un satanasso che dalle budella perdeva cose che in realtà erano cazzi eretti. Mamma mia. Ma che cosa cazzo sto schiacciando? No, aspetta, non ho finito di leggere. Alleluia. Si placca la tempesta. Non so, te... Scendi vino. No, madonna. Il lamento della lavatrice. Te la faccio vedere da vicino. Che fa? Che costa mano? Stai fermo, cretino. Ah, per le mosche. E guarda, un bambino Gesù. L'hanno spappolato. Vabbè, direi di non... Ah, aspetta, ma non è che devo fare la foto, tipo. No. No. Mi stanno venendo i brividi, ma scusa, un cazzo di... Come si fa ad attivare la... Oh, aspetta, devo capire come attivare... No, che si, mi sono abbassato. Ma attivare la... Oh! Perfetto. E adesso... Buono spavento a tutti. Ma cosa cazzo sono? Ma sono persone bruciate. Gesù Cristo. No, si sta spegnendola. Ma no, penso fossero adulti. Erano bambini? No, dai, veramente. Scusa, eh, perdonami. E scendi, cretino. Ah, è vero! Oh, madonna! Sono bambini! Io mi dissocio. È un gioco... È un videogioco, ma io mi dissocio. Dai, ricarica sta cazzo di batteria, dai. L'ho detto che faceva più paura di Layers of Fear. Ah boh. Ma che cazzo mi viene in mente a me di fare sti giochi? Cos'è? Ah, è il riflesso della bottiglia. E stavo cagando sotto. Ma chi è? Ma dov'è? Ma chi è? Ma dov'è che è? Aspetta che mi sto cagando addosso. Aspetta, eh. Posta. Fado via la merda. Dove cazzo è sta gente? Devi stare zitto. Quella potrebbe essere la mia penna, eh? Ma chi è che parla? È medicina. No, io salto adesso. Ve lo dico. A me piacciono i giochi horror, ma figa mi fa anche il garadosso. Chi è? Uè, uè. Un po' qui. No, 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 no. No, ma voi state scherzando. Ma che cazzo era quel cosa? Via, 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 via. No, no, no. Ma che cazzo era? Ma che cazzo era? Ma che devo fare, mo? Io ho i brividi, figa. No, lascia stare i jump scare che... Che già... Che già mi sto cagando sotto. No, come faccio? E il fatto è che è proprio dove devo andare. Come faccio? Ma siamo matti? Ma se vado a gattoni... C'è gattoni in ginocchio? Dov'è? Madonna mia, mi sto cagando addosso. Però non sento più lui che fa la cantilena. Quindi magari... Ma non sento neanche più i passi, non so. Che faccio? Non lo so, io... Non lo so. A sinistra? No, non mi fa paura anche te che mi... Cos'è? Puttana. No, dimmi che se n'è andato. Ma forse se n'è andato. Eh, figurati, vaffanculo, va. Chiudi sta cazzo di finestra. Stiamo scherzando, fine. Eh, va bene. No, mi sa che era... Era diverso. Cioè, questo qua era molto più alto. Non mi sembrava proprio lo stesso. No, lascio chiuso il chiavistello. Madonna mia, dobbiamo uscire. Niente, robe strane. Non muori, niente. Non posso andare avanti. Aspetta, prima guardiamo... Cosa c'è? Niente. Via, 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 via. Giusto Cristo. Ma erano i miei passi? Che cazzo... Che cazzo wow... Ah, ok. così perfetto nooo è DAIE è qua fuori il coglione che è sta cosa? ah no non è nient' tubo mamma mia si vabbè ma mi fate leggere un foglio figa ci sono rumori intanto che vabbè madonna che noia leggerai ste cose solo il primo foglio mi aveva entusiasmato che c'era una stuprata e io che volevo fare in silenzio? ma stira sugli occhiali ma che schifo salve vabbè una donna ok è una donna grande e sperando che la connessione continui a continui a reggere perché qua porto a punto salta si no in effetti a me è stato molto bello ma no vabbè era vincente a me queste cose un po' scabrose mi divertono vabbè consigliamo un po' di batteria signorina mi rompo un cazzo un attimo eh sto solo esplorando sto solo documentando una possibile uccisione di una donna incinta puoi sentire attraverso le pareti e localizzare i suoni e microfono la tua videocamera ah ma devo proprio? perché qua è più oh grazie per il ride allora la maionese mi fa schifo no non è vero in realtà mi piace la tua videocamera fornita ai microfono per sentire le pareti e localizzare i suoni ma io non voglio sentire i suoni ma li sento? non so se stanno pregando ma non posso lasciar per non si può fare i cazzi suoi questo qua figa troppi suoni facciamo così grazie signore è stato un piacere faccio un pisolino si ma alzati credino tieni premuto per aprire lentamente quindi? ah ok no scusa tieni premuto per aprire lentamente? muovendo indietro per aprire la porta ah perché si apre dentro eeeh si ma c'è qualcuno di qua oh cristo è il buon uomo di prima è quello di inizio gioco ma salve ma salve tutto bene appena ucciso una donna no 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 te ne devi andare a qualcosa colchiudi mi sto sudando mi sto sudando è bravo è il buon uomo di inizio gioco con la panza e la pelata e mo che faccio? eh quello lo sa che sono qui io ci vado così c'è un bastone usare l'appendi abiti qua l'appendi panni no eh ho capito ma che devo fare mo? per niente ci riproviamo adesso il minimo è qua fuori che mi aspetta facciamo così no eh lui è ancora lì allora fratto prima mi è venuto fuori un consiglio prima che scappassi via come una checca di nascondermi nelle frasche quindi penso che sia questa la meccanica ci vedessi anche qualcosa non sarebbe tipo male madonna mia non ho più nasconditi nel bidone guarda figate cucù? no eeeh senti ma andiamo fuori dai coglioni va no c'ho una voglia di esplorare tutto io esploro qualsiasi cosa no 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 andiamo fuori dal cazzo il trono di chi? porca troia ma che devo fa? ma come ha fatto a vedermi? eeeh ammazzi chiudi chiudi si ho capito ma come ha fatto a vedermi ui 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 uo 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 no è ancora qui questo eh canticchia cazzo canticchi ah no ma non è ma vaffanculo è la ci riproviamo mica mi ha sfondato la porta il coglione ci riproviamo ma dove devo andare allora ok di qua era giusto madonna che ansia forse devo solo fare veloce no non mi nascondo oh cazzo ma ancora lì come cazzo io lì devo andare eh infatti è ancora lì eh ma cosa cazzo sta cercando no però forse è sempre stato lì e vabbè io passo di qua no ah ma ce n'è un altro no no non è di qua scusa se passo qua ah ma perché qui è base no ma scusa eh mi ha visto no non è qui dentro che devo andare eh aia e vabbè niente sono morto dai non è qui dentro ma dovevo andare oh cristo ok abbiamo capito che non è lì perché io pensavo che lì c'erano comunque le le erbe alte e c'era il buco per passare invece no chissà che cazzo ho visto vabbè vabbè ma per eh no in questo gioco qua no perché e chiudi vaffanculo ma perché ce l'ha di dietro alla porta porca di una troia no perché è diciamo abbastanza realistico perché lui comunque è un giornalista ok e quindi giustamente non ne sa usare le armi però mi farebbe molto comodo sì mi posso nascondere sotto il letto ma allora qui c'è un coglione che fa la ronda ed eccolo qua che poi dovrebbe essere lo stesso penso che si mette lì ah no mi sa che c'è un altro no allora facciamo così e il problema è che non so che giro fa questo vabbè senti passiamo così vaffanculo se mi beccano io corro eh no te lo dice proprio inizio gioco vabbè tu non l'hai visto che non c'eri ancora devi solo scappare oi che è chi è sta gente oh 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 che calma ma che urne vabbè io non scappo come sti impazziscono e mi ammazzano io ti prego di essere fuori non ti posso dobbiamo non si può dire che diosce che quando non si beccati vabbè scusate io me ne vado perché non so non so No! Ah, Lynn è la sua... la sua amica dell'elicottero. No! Lo so, lo so, c'ero anch'io sull'area. Sì, è solo l'inizio, vabbè, ma è un gioco veramente blasfemo, quindi... figurati. Io lo sentirai miliardi di volte. Ma come devo fare che faccio? Passo sotto? No, sopra. Scavalcare... ah, ma che scema qua. Mamma mia! Va bene, andiamo a farci una... una preghiera. Proviamo a pregare e... Guarda! Guarda che figata anche la... la luce della porta fa la croce rovesciata. Simpatica sta cosa. Simpatica il fatto che... ci siano tutte le croci così e poi... qua c'è la croce rovesciata. Bella, mi piace... quest'idea... testa... molto particolare. la torba. E questo mi piace un po' meno. Ma c'è gente... dentro... permesso... ah, questo è... questo è... Cristo ciccione... la pagina dell'inferno. la pagina dell'inferno. di Val... gli scese dai dannati... gli odiosi... e si coprivano il seme dell'agnello. Che schifo! hanno fatto una... book cake... su... 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 su Val... cioè... è andato benedì in una stalla... ha fatto fare una book cake... dalla... dall'agnello. l'agnello nasce e fa... cose... vabbè... allora... va... no... prendi... se faccio l'ascia... niente... va bene... oi... 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 guardami... ma che cazzo vuoi? ma chi ti conosce? ma vaffanculo... ti do un cazzo... ti do un pugno in faccia se vuoi. oi... chi è? ma chi è? oi... oi... l'uncolta! mamma miaoo! La vecchia Incidente Che è quello che vuole mio figlio Ma quest'ombra Ma quest'ombra Senza piedi Ma chi è Ma chi è sta ombra Ma non è l'ombra di nessuno Un'ombra senza i piedi che svolazza così Signora, ho torcazzo La prendiamo Ah, quello che si è fatto è coprire di sperma Gli agnelli Questa è stata sessuale What? Mi sono spaventato Io non l'ho accettato Ehm, bravo Ehm, sono l'uoghi Ehm, è sporco di merda qui Ah, vabbè No, ho sbagliato Perfetto Ehm, è mo' Esco Ehm, sali probabilmente gli ha chiesto di ma che si è andata a me quello lì che probabilmente è stato coperto di sperma ad agnello probabilmente ha chiesto alla tizia di accoppiarsi per fare l'anticristo sì ma io ho trovato una chiave ah ma che è, certo sì dai corri becine oh state lì eh andiamo in teoria no bloccata apre questa? no e che porta? cos'è che apre la chiave? ma scusa eh io non so proviamo a tornare lì eh c'è una porta qui no? che devo fare? io devo aprire la porta di questo? no le celle proviamo a vedere guardiamo tutte magari la signorina ma signorina vecchia no a meno che devo salire no non devo salire passare sotto da qualche parte mica che palle quando mi blocco così eh non scusa con la chiave non devo fare un cazzo ma chi è che si muove sopra? eh si sta scaricando anche che due coglioni suggerimenti avete idea ah vaffanculo ah oh ah ah ammazzati deficiente ah papà non gli dico proprio un cazzo gli dico che sei un coglione ah papà no si spegne la tv qua non paffanculo eh lo so lo so eliminare ecco la parte mi interessa no ho sbagliato la vagina dell'inferno stava per aprire minacciava la prossima spalancata si diffondeva il glorioso inno di papa lo so cazzo lo so spantoso si vabbè ma è tipo vabbè è un po' tipo la bibbia no se vogliamo che l'abbiamo fatto fra l'altro ah beh presto c'è la mia amica oh sono qua o no eh sì che sono qua fatemi entrare figli di puttana bravissima bravissima urla chiama la figa arrivo lasciati bravissima oh god blake sei ok? no cosa f***a? non lo so oh f***a abbiamo di rinforzare hey madonna fuga dai dai corri cretina dove andiamo? fuori da qui anywhere but here aspetta e mo ti rispondo ok ma di solito vado a dormire quando capita tipo la sera sono andata letto alle due però penso che la mezz'oretta è strato no che cazzo gli hanno fatto gli hanno aperto la pancia guarda guarda perché vogliono fare il nuovo anticristo perché sei morto quando sei morto siamo morti è ok sono qui siamo siamo fuori ok? che hanno fatto a te? non posso parlare non 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 perché li hanno ficcato dentro qualche bambino qualche cosa madonna bene grazie grazie non ero 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 mi ero mi es vado ero è ero 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 Ma come? Oh madonna, ce ne abbiamo usato avanti? Ma che cazzo non so cosa sono No! 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 Nel cazzo tutti! Mh... Ma è ovviamente quella batteria floccata! Cazzo l'ha? ho la mia webcam sulla in alto e non vedo aspetto un attimo, provo a modificarla vediamo se riesco allora, come si fa? in alto a destra ok no, ho sbagliato in alto a sinistra aspetta in alto a sinistra ok ma è sempre uguale ma scusa va bene, ce la teniamo così ah, che figata bella sta cosa oh, madonna dove vado? madonna, non so cosa fare proviamo ad entrare qui? madonna, non so cosa fare non so cosa fare ma è non so cosa fare ma è ma è ma è ok meno male ma però mi gira il cazzo le altre camera lì scusate un attimo e cerco di modificarlo un secondo e posizioni in alto a sinistra vabbè niente sta in alto a destra infatti non vedo se la batteria da telecamera è ah ma che giro fa cazzo mi sa che torna indietro porca puttana dov'è? eh si intanto dove va? no andiamo che guarda dentro casa anche sta buona madonna devo pisciare dai vado un attimo a pisciare ciao arrivo vado un attimo a grazie ragazzi grazie actua hai siete grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E quindi dov'è? Oh, madonna. Oh, madonna. Facciamo un tentativo, eh. Allora, facciamo sta roba qua. E poi... Allora... È il momento giusto? È il momento giusto via fuori dal cazzo. Via, 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 via. Dai! Oh, ma che luce, dica. È che sono finito a scuola. What would Jesus do? Eh, cazzo, non so... Può cantare una canzone? Sì, dai, quanto ci vuole da fare un cazzo di video? Sì. Oh. Eh, dispiace pure a me essere qua a cercarti. Jessica. Quando eravamo... Oh, fuck. Perché? Chissà dove cazzo posso essere? Questo luogo è familiare. Chissà. Non riesco a venire a me. Mi sta da macellaio, però... Sedi e banchi, ma c'è qualcosa di strada. Non c'è la carne. Ma certo. Ho visto la forza. Una scuola. Ecco, sono a scuola. Efficiente. Responsabilità. Rispetto. Dica. Dica. Ho fatto una domanda. Eh? E che vuole? Sì? 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 Raffanculo. Perché ho fatto? Una porta. semi aperta spostare scusa ah ma sto spostando la televisione ah mica capito cosa cazzo la metto la notte ecco vedi se sono avanti per me magari non è quanti veloce oh fatemi uscire non mette niente di buono ah grazie vento oh madonna grazie 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 è giustamente quelli là invece gli altri lo vogliono far crescere l'anticristo sto arrivando dai continua a camminare che faccio eh l'ho visto si ma è l'ho vista è quella alta alta con la coda con i ginocchi appunto con i capelli raccolti dietro col cane alta ok ok secondo me l'ha catturato secondo me mi ha catturato può chiamare qualcuno l'ho vista I'm coming! He is here! Stop! Che va! Oh madonna mia. Madonna. io non mi moro da qua ma questi sono i cristiani e questo era uno dei cristiani madonna va bene io mi fermo qua grazie a tutti per essere passati grazie anche al follo per il ride e basta ci vediamo al prossimo gameplay grazie